Signore e signori, buonasera, benvenuti a casa mia, benvenuti ancora di nuovo, ben ritrovati qua nel disordine della mia libreria, da me, dal mio cappellino della PT6, Pratt & Whitney, ecco, un regalo, un bellissimo regalo che mi ha fatto l'amico John Mariani, che ringrazio tuttora di tutto cuore. Dicevo, torniamo a parlare con l'ausilio di questo libro, ovvero sia Tutti le aeree da combattimento della Seconda Guerra Mondiale e dell'Unione Sovietica di Angelucci e Matricardi, con le bellissime illustrazioni di Giampaolo Pinto e Encyclopedie de Chassée Sovietique 3951 di Herbert Leonard, un testo completissimo che ci mostra l'evoluzione degli aerei da caccia sovietici. Qui parliamo, in questo video, parliamo di questo aereo qua, il Lavochkin Gorbunov-Gutkov Lag 3, eccolo qui, questo aereo che vedete qua, un monoplano monoposto monomotore, il primo aereo da caccia, se vogliamo, moderno, insieme al MiG-3 entrato in servizio con la Voyenno Vosduschnie Sili. Eccone qua, questo è il Tre Viste, guardate, apparentemente un bel aereo, in realtà molto, 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 molto problematico, un aereo che non era propriamente un granché, se vogliamo, ma perché questo aereo non fu propriamente un grande aereo e non fu neanche molto amato dai piloti che lo soprannominavano per via della sigla L-A-G-G, Lavochkin Gorbunov-Gutkov, lo soprannominavano Lachirovani Garantirovani Grob, bara garantita laccata. Ok, perché aveva struttura e rivestimento in legno impregnato di resine che quindi ai piloti sovietici, diciamo, faceva venire in mente cose piuttosto macabre, non del tutto a torto. In pratica la generazione di aerei da combattimento realizzati in Unione Sovietica nel corso del conflitto, vide l'esordio di progettisti che sarebbero diventati celebri in tutto il mondo negli anni successivi. Dopo Mikoyan e Gurevich, padri del mio amatissimo MiG-3, lo sapete, io ho un debole per questo aereo qua, io ho un debole per questo aereo, io amo quest'aereo, non c'è un perché, lo amo, basta, ecco, è bello, va bene, va bene. Dicevo, un altro tecnico di altissimo livello fu Simeon Alexeyevich Lavochkin, la cui sigla caratterizzò una famiglia di caccia che sopravvisse sino agli anni 50, dal LAG-1 del 1940 al LA-11 del 1947. Il primo progetto di Lavochkin fu portato avanti insieme con altri due tecnici di valore, ovvero sia Vladimir Petrovich Gorbunov e Mikhail Ivanovich Gutkov, con i quali si era associato nel 1938, anche se c'è da dire che i rapporti tra i tre personaggi furono sempre piuttosto particolari, non facili e quantomeno conflittuali. Da quello che si evince dal libro di Leonardo, Gorbunov, Gutkov e Lavochkin non andavano molto d'accordo fra di loro, perché tutti e tre tendevano, volevano a tutti i costi, farsi uno KB autonomo, uno studio di progettazione e costruzione autonomo. Ma l'unico che ci riuscì davvero fu Lavochkin. Gorbunov e Gutkov. Gutkov, Dio mio, dovrò parlarne. Parlerò anche del caccia della copia del P-39 fatta da quell'uomo che... vabbè, lasciamo stare, lasciamo stare, lasciamo stare. Allora, questo caccia monoposto, denominato inizialmente I-22 e successivamente LAG-1, esordì in volo come prototipo il 30 marzo 1940. Ripeto, era un monoplano ad alla bassa, molto curato dal punto di vista aerodinamico, perché gli studi dello Zagi, dell'Istituto Centrale di Aereo Idrodinamica di Mosca, erano decisamente all'avanguardia per l'epoca. La cura aerodinamica dei caccia sovietici, soprattutto di quelli a motore in linea, era ben nota. Il MIG 3 era solo un esempio. Ecco, allora, una caratteristica dominante che lo rendeva unico nel suo genere era il fatto di essere costruito totalmente in legno. Il LAG-3 era costruito interamente in legno, con l'unica eccezione delle parti mobili, flap, palettoni e timone, che erano a struttura metallica rivestita in tela. Fusoliera, impennaggi e ali avevano struttura portante e rivestimento, la struttura portante in legno e su di essa era incollato con resine speciali un rivestimento in strisce diagonali di compensato e questo, ripeto, dava l'aspetto all'aereo di una di una barra laccata. Anche perché, ripeto, come già vedremo, il comportamento dell'aereo in volo non era propriamente esaltante. Il motore era un Klimov M105 V12 raffreddato a liquido, erogante al decollo 1.050 cavalli. Le prove di volo però non furono per niente soddisfacenti. Di conseguenza, prima dell'avvio della produzione, vennero apportate numerose modifiche che però non risolsero tutte le rogne di questo aeroplano. Tra queste ci fu l'adozione di una versione potenziata e sovralimentata del propulsore M105 e di una elica tripala metallica a passo variabile. Venne aumentata anche la capacità dei serbatoi e l'installazione e vennero installate alule sul bordo di attacco delle ali. Il prototipo, il nuovo prototipo, venne ridisegnato I-301 e al termine dei collaudi, il caccia fu immesso in produzione di serie con la denominazione ufficiale di LAG-3. Il primo impiego operativo, a partire dal 41, a partire da Barbarossa, mise in luce caratteristiche di volo negative che resero necessarie un ulteriore lavoro di ricerca e collaudo, perché il LAG-3 era un aereo che i piloti giudicavano pesante, un aereo che i piloti giudicavano molto difficile da portare, difficile quasi quanto il MiG-3 e il che è tutto dire, perché era molto pesante di muso, il motore faceva un po' fatica, la struttura in legno e il rivestimento in legno erano piuttosto pesanti e questo causava problemi, perché il motore non aveva potenza sufficiente per una cellula così pesante, perché non sembra gente. Ma il legno non è poi così leggero quando si tratta di costruzione aeronautica, anzi, 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 anzi. Praticamente questo aereo doveva essere impiegato come intercettore. Nella prima parte dei combattimenti contro le forze tedesche, in particolare il fronte finlandese fu un aereo che raggiunse una risicata sufficienza, se vogliamo, ma comunque non fu mai l'intercettore che Lavochkin, Gorbunov e Gutkoff avevano pensato. Fu invece impiegato con successo come caccia di scorta ai bombardieri, lì funzionava abbastanza bene. Funzionava abbastanza bene anche come aereo d'attacco al suolo e contro obiettivi meno impegnativi rispetto ai caccia della Luftwaffe e ai caccia della Ilmavoimat finlandese, perché questo aereo, il Lag 3, qui ne vediamo uno su un campo coperto di neve, ecco questa bella fotografia, questo aereo non era adatto al dogfight, era un aereo che tollerava decisamente, insomma, non era in grado di affrontare il combattimento ravvicinato con altri caccia, non era in grado di affrontare il combattimento ravvicinato con aerei pilotati dagli assi tedeschi o dagli ammazza sette finlandesi. Vedi per esempio il Mari Immo Jutilainen, ok? Allora, ripeto, fu utilizzato nell'attacco al suolo, fu utilizzato nella scorta ai bombardieri e fu utilizzato per dare la caccia a ricognitori e bombardieri avversari. Il Lag 3, peraltro, si dimostrò un aereo versatile e una volta sistemati i problemi diventò anche piuttosto affidabile. L'armamento tipico era composto da un cannone da 20 mm sparante attraverso il mozzo dell'elica e da due mitragliatrici da 12 e a 7. Sotto le ali poteva portare fino a 200 kg di bombe, ma di solito si montavano razzi o un armamento di caduta tipo spezzoni per omini anti uomo per l'affanteria. In tutto, sino all'agosto del 1942, due anni signori, due anni, furono costruiti un totale di 6.528 esemplari. Scusate, questi qui, dal 40 al 42, in due anni, costruiscono 6.500 Lag 3. 6.500 Lag 3. Ecco, questa è una curiosità, vi faccio vedere. Questo è un Lag 3 con insegne finlandesi. I finlandesi non si vergognavano minimamente di utilizzare aerei catturati. Tutto fa brodo in guerra, tutto fa brodo. I finlandesi veramente sapevano far, insomma, riuscirono a far funzionare ferri da stiro come il Brewster Buffalo e il nostro Gigetto, il G50, il Fiat G50, il che, tutto dire, la dice lunga sulle capacità dei piloti finlandesi. Allora, nel corso della produzione furono completati molti altri prototipi sperimentali del Lag 3. Furono realizzati nell'intento di migliorare le caratteristiche della macchina. Quando Lavochkin, Gorbunov e Gutkov si separarono, Gorbunov lavorò ad una sua versione del Lag 3, che però non superò mai lo stato di prototipo, dando magari ragione a Lavochkin che diceva che i suoi due collaboratori non erano un granché. Ecco, Lavochkin in particolare si dedicò all'opera di perfezionamento e dopo una serie di tentativi falliti, il successo finalmente di questa cellula, di questo aereo, fu raggiunto con la disponibilità di un motore totalmente e radicalmente nuovo, ovvero sia il radiale Shvetsov M82, che una volta installato pari pari con le dovute modifiche della cellula, non del motore, lo trasformò in una macchina di primo ordine, ovvero sia il famoso Lag 5 del 1942, uno dei migliori caccia sovietici in assoluto di tutto il conflitto. Un aereo, il Lag 3, che ripeto non era propriamente un puro sangue, questi sono alcuni esemplari, eccoli qua, nelle tavole dell'opera di Herbert Leonard, eccoli qua, questi sono alcuni esemplari in servizio con Lavoyenne Vosluchnesili fino al 1942. Era un aereo, ripeto, dalle caratteristiche di volo non esaltanti, non era adatto. Ecco, notate bene, notate bene la mimetica bianca, che è molto diversa da quelle immacolate, che solitamente si vedono nei disegni, perché il motore Klimov aveva un brutto difetto, pisciava a olio. Il motore Klimov funzionava bene, era un motore potente, un motore tutto sommato affidabile, era un progetto di derivazione ispano-suisa, un progetto di derivazione francese. In pratica derivava dagli stessi motori dei Morin Solnier, dei Pellicani MS 406, o dei De Vuotin di 520. Klimov ne fece una versione che erogava dai 2 ai 300 cavalli in più, il che non è male, ma non fu mai in grado di venire a capo delle continue perdite d'olio. Insomma, signori, il Lavochkin Lag 3, eccone qua, un esemplare, questo qui è un esemplare con le razziere alari e gli sci ai piedi, gli sci retrattili al posto delle ruote del carrello, eccolo qui. Notate, queste sono le razziere, i sei lanciarazzi montati sotto le ali che lo rendevano un buon aereo da attacco al suolo. Insomma, un aereo non esaltante, non un puro sangue penalizzato, ripeto, da una cellula pesante, da un motore che per quanto affidabile e potente non garantiva la riserva di potenza sufficiente, non garantiva un'attrazione sufficiente a un aereo oggettivamente piuttosto pesante, ma fu un aereo che nei primi terribili mesi di guerra tenne, si può dire, a galla la voienno vos durgne sigli. E ripeto, in due anni i tedeschi di questo aereo costruirono la metà della nostra intera produzione aeronautica dal 39 al 43. Che vi posso dire, signori? Cosa vi posso dire? Un aereo, ripeto, che non fu un caccia esaltante, tutt'altro, ma ebbe il grande merito di essere il padre di un puro sangue come il Lavochkin Lag 5 e di quella serie di caccia, come dire, di quella serie di caccia a motore radiale eccezionale che furono i Lavochkin fino al La 11. Ripeto, un aereo non perfetto, un aereo che aveva grossi problemi, ma che sicuramente, come dice il proverbio, piuttosto che niente, è decisamente meglio, piuttosto. Allora, adesso, cari signori, tocca a voi, fatemi sapere che cosa ne pensate, ditemi quali sono le vostre opinioni e, come sempre, aspetto le vostre considerazioni qua sotto, gente, commentate. E niente, vi ringrazio tantissimo per l'attenzione e rivederci al mio prossimo video. e soprattutto, come sempre, ciao!